Di chi parliamo oggi Mugo, un grande personaggio della musica rock degli anni 80? Esatto, Frankie, il grandissimo e istrionico Billy Idol, alla veneranda età di 65 anni, è ancora in voga. È cresciuto con la musica punk, lui era il frontman della band Generation X, è divenuto famoso poi come solista negli anni 80 con dei brani che anche te, Frankie, hai sicuramente. Ha fatto la bellezza di 12 album con tanti live e sono famosissimi, Frankie, anche alcune cover come L.A. Woman dei Doors, partecipò come attore nel mitico film The Doors. Ha fatto anche altre comparse, però diciamo che è conosciuto per la sua musica, per il suo modo di esprimere il suo rock sul palco. E molto bene Mugo per questo Picture Stalking dedicato a Billy Idol.